Erano già state una presenza ingombrante per gran parte del mese di luglio e sono tornate pure alle porte d'agosto. Le mucillagini stanno condizionando l'estate pesarese così come quella di buona parte del medio alto adriatico. Un problema per la pesca che è entrata nel periodo di fermo dopo aver convissuto con la melma che metteva a rischio reti e motori, un problema per i bagnanti e per il turismo come confermato dagli stessi stabilimenti balneari soprattutto in questi giorni di altissima stagione. È un problema sì, oltretutto ieri stessa mia figlia di fatto ha detto papà vado in piscina perché non ho voglia di stare in acqua sporca. È un problema per i turisti, spesso gli stranieri ci chiedono che cosa sia, è difficile spiegarglielo e questa secondo me è la risultanza delle proteine che sono arrivate l'anno scorso con le grandi alluvioni che ci sono state in maggio e quindi paghiamo le conseguenze. Sicuramente tutta quella terra che è arrivata dalle alluvioni ha permesso durante l'inverno alle alghe di proliferare. Il problema delle mucillaggine è un problema che si è riscontrato quest'anno principalmente nelle ore pomeridiane e col vento notturno alla valle la mattina diciamo l'acqua abbastanza pulita e nel pomeriggio iniziamo a vedere qualche chiazza di mucillaggine. I turisti si accontentano anche dei servizi che offre la spiaggia e comunque si trovano bene nel nostro stabilimento balneario. Però è una brutta pubblicità che ci facciamo, ho visto la Romagna che è veramente in forte disagio, da noi ogni tanto ci sono qualche macchia, c'è qualche macchia pesante, però poi cambia di ora in ora l'aspetto del mare. Però quello che fa brutto è che ieri per esempio c'era una melma di due dita sotto il livello del mare, più quella in sospensione, quindi sotto e sopra comincia ad essere pesante la situazione. Speriamo che ci metta qualcosa di buono il Padre Eterno, vediamo cosa succede. Insomma non si stanno creando le condizioni meteorologiche utili ad accantonare le mucillagini. Il mare è troppo caldo e non arrivano le mareggiate che possano disgregarle. Ieri il porto di Pesaro appariva in questa situazione. Questa mattina c'erano invece condizioni favorevoli al bagno al mare, ma con forti dubbi di mantenerle ancora al pomeriggio. Insomma ogni bagnante che si reca in spiaggia deve incrociare le dita su che acqua troverà. Io e mia moglie veniamo qui praticamente per fare il bagno perché a noi ci piace notare e ci fa bene. Penso lei non è molto incoraggiante, mi dispiace anche per chi ci lavora, ma anche noi iniziamo a far fatica. Era da molto tempo che non si vedevano, ovviamente è una cosa sconveniente, una cosa diciamo pazzesca e prima o poi speriamo che scompaiono. È strano perché questo fenomeno si sta svolgendo anche più in giù delle marche, si rollo inumana e quindi è una cosa diciamo sconveniente per chi si fa il bagno. Mucillagini che sono fastidiose, appiccicose, ma che non influenzano la sicurezza in mare. Magari possono dare fastidio quando esci dal mare perché sono appiccicose, siccome sono formate da proteine glucosi. Per adesso non sta dando criticità dal punto di vista acquatico.